Cristina Aguilera con Beautiful. 2002 sta canzone, me ne sono passate. Sì, non mi ci fare pensare. 22 anni, siamo uguali comunque noi. Io sono rimasto uguale. Anche io così. Uguale, uguale, avevo già la barba quindi non c'è problema. Anche io, pensa, però me la sono fatta negli ultimi dieci anni. Beh sì, non è più di tendenza, come dire, no? E invece gli hanno fatto una copertina per niente... Non lo so, anzi, non dico niente, lascio dire a te. Ah beh, allora vai bene, guarda. Lascio dire a te. Che cosa... L'Espresso ha fatto uscire proprio oggi, casualmente, questa copertina con Chiara Ferragni truccata da Joker, simil pagliaccio, mettiamola così, con un titolo che descrive, introduce quello che le sta succedendo dal 15 dicembre a questa parte. Ha già annunciato azioni legali tramite il suo team di avvocati. Lei in questo momento è a Manhattan per lavoro, perché comunque ancora lavora. È già questa è una notizia. È già questa è una notizia, è stata a casa, diciamo, per poco, mettiamola così. Fedez, suo marito, per chi non lo sapesse, ha reagito con le stories di Instagram. Ci sono dei punti interessanti, nel senso che lui dice innanzitutto che in copertina ci dovrebbe finire anche il proprietario dell'Espresso, che non è uno proprio pulitissimo, chiarissimo. Poi andate a vedervi le stories, che io non voglio responsabilità, Fabio. No, è vero, è vero. Ha risposto proprio dicendo, ma io ne ho una... Perfetto, ma il vostro di pagliaccio non ne parlate. Non ha tutti i torti, Fabio. Cosa dici? Ma come dicevi tu poi, interessante, non solo il titolo e la foto, che appunto è Ferragni SPA, il lato oscuro di Chiara, ma il sottotesto, diciamo, il sottotitolo, che dice una rete ingarbugliata di società, che mi viene da dire chiunque faccia finanza, è così, non lo farò mai, ma è così. Una girandola di quote azionarie. Fin qui uno dice, sì, sì. Tra partner ingombranti, vorrei vedere chi ha società così grossa a non avere partner ingombranti, manager indagati, vorrei andare a vedere anche quello dove non ci sono. Adesso un attimo, però, ok. Non tutti, però sono così messi male. Soprattutto dipendenti pagati poco, quello però c'è ovunque. Non me lo aspettavo dalla nostra Chiara, Chiara. Comunque, lei non ha postato nulla, se non appunto il suo arrivo in questa lusuosa casa, chiamiamola così, di Manhattan. Vedremo i suoi avvocati cosa faranno impegnati in questo periodo, perché comunque sappiamo che ci sono di mezzo da metà dicembre altre due sue società per il Pandorogate, si sono poi aggiunte le uova di Pasqua, la bambola Trudy e l'hanno abbandonata Coca-Cola, Saffilo, Pigna. Insomma, scossoni per Chiara Ferragni che stanno continuando. Secondo te, Silvia, come ne uscirà? Io posso dire la mia. Secondo me ne usciranno comunque bene questi due. Anzi, secondo me ne usciranno più saldi di prima loro due. Sono in crisi in questo momento. Come coppia, dici, però? Sì, sì. Più saldi e come immagine? Come immagine, boh, si sposteranno da qualche altra parte. A Manhattan, secondo me, manco se ne accorgono questa roba qua. Certo, lei non è più così famosa negli Stati Uniti da quando è tornata, è arrivata in Italia. Qua non era famosa. È Fedez, no? È Fedez, no? Che l'ha resa così famosa. Di certo, comunque, l'immagine da ripulire, da ricostruire è una cosa ardua, perché non è successa proprio una cosetta. Ecco, c'erano di mezzo bambini malati, lo sappiamo, e lei ha detto che separerà le operazioni commerciali da quelle di beneficenza ad ora in poi. Come dice il mio influencer preferito, Pinna, se stai facendo beneficenza il conto ti si deve abbassare, punto, e basta. E allora con questo invece andiamo a vedere come va la situazione del traffico invece su Milano. Ritorniamo qui nelle nostre misere vite nel traffico cittadino con tutto quello che ne consegue e chissà che ora arriverete al lavoro. Chissà. Luce verde? Luce verde? Loretana Bertè con Pazza, alle 7.20 qui su Crystal Radio, 331-7853-555. Grazie mille ad Alberto che ci ha scritto un buongiorno e un saluto a tutte le donne in ascolto, ci uniamo al saluto di Alberto, questo anche per te Silvia. Buongiorno. Un buon venerdì e un buon weekend allo zio Fabio e a tutti i cristallini in ascolto. Buongiorno anche a voi. Quando mai ho detto zio Fabio due settimane fa? Basta. Sei lo zio? Da quel giorno basta, sì sì. Ma sono contento e sono il vostro, sono lo zio di tutti. Sì, sei rassicurante, vero? Sono rassicurante, perfetto, va bene. Come l'orso Yogi, va bene. L'hai detto due. Sì, 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 no, lo dico da sempre. Torniamo sul discorso, Silvia, però, della copertina della Ferragni, perché, allora, prima di tutto, tra prendersi, ma ho visto anche che non è una ideona geniale dell'Espresso, copiata dal New York che aveva fatto una copertina qualche anno fa su Bernie Madoff, praticamente allestita nella stessa maniera con una facciona di Madoff dipinto e truccato come il Joker. All'epoca il titolo era Bernie Madoff Monster. Quindi pensa, c'è sempre chi riesce ad andare più giù pesante. Più giù, e noi non lo sapevamo, quindi... Infatti, no, 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 infatti. E invece, comunque, quello che ha lasciato un po' sconvolti tutti è il fatto anche di averla fatta uscire in questa giornata e in questa modalità. Insomma, da donna credo che tutti si sentano attivino tirata in causa. Sì, come mi sento in causa tirata tutti i giorni, praticamente. Ok, è un'opinione personale, ma potete sentirne tante di donne che la pensano così. E tiro in causa anche gli uomini, perché anche molti uomini stanno ragionando su quello che sta succedendo ultimamente. Quindi sì, tirata in causa, però fosse solo una copertina il problema. Purtroppo ce ne sono di molti più grossi. Chiara Ferragni è sì un personaggio pubblico, quindi ha anche magari le spalle larghe rispetto ad altre persone, però insomma è sempre un essere umano. Ma ci sono situazioni delle quali non si parla, situazioni sommerse. E, caro Fabio, volevo dirti che appunto ho avuto modo di parlare con la dottoressa Filomena Rossiello, che si occupa dello sportello della Casa delle Donne di Milano. E qui veramente i problemi sono seri. Non sono problemi che si possono risolvere con qualche stories su Instagram. Non sono problemi che fra 24 ore andranno via, o con la prossima copertina dell'Espresso. Sono problemi che permangono, che rovinano vite. rovinano vite anche di minori. E la dottoressa, che è anche l'ex co-presidente appunto della Casa delle Donne in via Marsala, che fa dieci anni quest'anno. Auguri, allora. Auguri. Doppi auguri. Doppissimo. Sì, credo che facciano, ovviamente, giustamente il compleanno proprio l'otto marzo. Sì, era o ieri. Adesso non ricordo. Comunque è nata proprio la Casa delle Donne. Pensa, dieci anni fa era il primo sportello, la prima piccola struttura rispetto a come oggi, alla quale a Milano si potevano rivolgere le donne. Primo e unico all'epoca, no? L'unico, almeno ufficialmente, diciamo così. Per fortuna ce ne sono di più. Per sfortuna ce n'è sempre più bisogno, però. Assolutamente. Mi diceva la dottoressa che dobbiamo anche toglierci dalla testa la questione, il fatto che si possa pensare che sono solo magari le persone, le donne straniere, le donne con una cultura, diciamo, medio-bassa o in povertà che subiscono violenza. Assolutamente no. La dottoressa ha pronunciato questa parola. La violenza sulle donne è trasversale. Qualsiasi conto in banca, qualsiasi religione, qualsiasi stipendio una donna abbia, purtroppo ci sono anche grandi manager, grandi professioniste, non te lo aspetteresti mai e a casa purtroppo sono succubi, invece. E perché questo nasce molto probabilmente, credo, appunto, ho sentito anche poi in quello che ti visitate con la dottoressa, nasca proprio da un retaggio culturale che rimane soprattutto dentro a noi uomini e anche dentro a molte donne, per cui poi non ci si riesce a rendere conto. Le donne stesse pensano di meritarselo o che comunque non si possa migliorare. Beh, allora, buon 8 marzo ancora a tutte le donne e anche a questo punto allora auguri alla Casa delle Donne di Via Marsala di Milano. Andiamo avanti con la musica. Britney Spears, baby, one more time. Ballate un po', dai. Fiorella Mannoia con Mariposa. Non so se vi siete d'accordo, è solo musica femminile quest'oggi, comunque così ve lo volevo dire per i più distratti. Andiamo adesso Silvia che è qui con me, Silvia Gatti qui con me. Buongiorno ancora. Ancora buongiorno anche a te Silvia. Andiamo a leggere un po' di notizie dal giornale milanesi. Il Corriere della Sera Milano intitola Milano, Università Statale è occupata ieri sera. 50 studenti restano nelle aule dopo l'assemblea per preparare i cortei dell'8 marzo. In realtà è divertente, per la stessa notizia c'è anche, con la stessa foto, su Repubblica Milano, e ti leggo il titolo da Milano. Milano, gli studenti occupano l'Università Statale per l'8 marzo. Quindi uguale. Si sono telefonati. Perfetto, aspetta. In 200 rimasti nelle aule. Aspetta però. Decidetevi. O su 50 sono 200. Come quando dici, la questura dice che erano... In questo caso non era difficile, li vale a contare, non era proprio complicatissimo. Comunque vabbè, perché occupano per prepararsi ai cortei di quest'oggi, corteo che c'è oggi pomeriggio, mi ricordo che parte da, se non sbaglio, Piazza Ducca d'Aosta e arriva in centro. Dopo comunque magari vi do tutte le indicazioni. Certo. Occupazioni... Hai mai fatto occupazione tu? Eh sì, ho fatto occupazione all'Istituto Pierpaolo Pasolini, istituto tecnico a Zona Lambrate e me so divertita. Posso dirlo come lo direbbe Mara Venier? Sì, eh? Me so divertita. Tanto, eh? Sì. Però abbiamo fatto anche degli incontri così, un po' culturali, diciamo così. Più che altro era cazzeggio, mi dispiace dirlo, ma... E per gli incontri culturali su cosa avvertivano? Allora, c'erano delle piante da fumare innanzitutto. Non da innappiare. No, c'era qualche professore comunque seduto con noi. Nessuna azione violenta. Era 98-99. Tempi diversi, niente social. A proposito di occupazioni, sempre da Corriere della Sera Milano invece vanno avanti le polemiche sull'occupazione degli cioparini, cosa è successo. Non so se hai visto appunto il preside, l'ombrellata, però e dopo anche il fatto di aver dato dei fascisti ai ragazzi. Si è un po' ridimensionata già la cosa però, per fortuna. Sia per quanto riguarda il dare dei fascisti, sia per quanto riguarda l'ombrellata. Infatti, cosa dicono gli studenti? Gli studenti sono usciti con un comunicato congiunto, dicendo che non è stato un atto di forza di pochi. Avevamo anche il supporto della maggioranza e poi comunque sappiamo che sulla questione si è espressa anche il sindaco dicendo che insomma non si deve dare dei fascisti ai ragazzi. Il preside comunque ha avvegliato. La cosa interessante era finita l'occupazione e la scuola è stata ridata indietro, pulita e tutta a posto. Questo è buono però. Ah no, non ti credere. Lo davo per il minimo sindacale. E invece, vabbè, è andata bene. Mettiamola così. E chissà se avevano anche loro il vostro laboratorio di giardinaggio. Secondo me sì. Come lo chiamavate? Laboratorio di giardinaggio? No, non posso dirlo. No, va bene. Mi piace che hai detto, con la rabbia poi c'erano anche i professori. Spero non nel vostro laboratorio. No, no, no. In altri momenti assolutamente, ma si sa. Ok. Sapevano. Comunque, appunto, oggi ci sarà il corteo dell'8 marzo a Milano. Parte appunto pomeriggio. Piazza Ducadaosta, hai detto? Piazza Ducadaosta, sì. Ok, stazione centrale. Yes. Parte da lì. In realtà, vabbè, sì. Piavitruvio. Sì, partirà da lì. Ah, no. Sbatto l'orario. 18.30, pensate. Ah, più sul tardi, quindi. Partito da 18.30, concentrazione. Sì, ok. Sto leggendo adesso da Milano Today tutte le varie cose. Sì, sì. In realtà, però, ci sarà anche… Ecco perché ci sono due manifestazioni diverse. Certo, più di uno. Ecco perché, sì. Perché ci sarà sia… Allora, in largo, 11 settembre. Ok. Che è dove c'è l'ambasciata americana, più o meno se non ricordo male. Ci sarà una manifestazione questa mattina. E poi, invece, nel pomeriggio ci sarà una manifestazione, invece, nella Porta Venezia. Ok. Elodie, affari spenti, 7.39 minuti, Cristian Radio. Good morning Milano, qui con Silvia Gatti. Adesso abbiamo la lista della spesa, Silvia. Vabbè, vabbè, è giusto così. Sono contento perché, insomma, sono tantissime… Le iniziative, sì, tutti gli orari, tutte le zone, più o meno, molte zone. Sì, e allora iniziamo alle 8.30 questa mattina. Ci sarà un presidio, un punto davanti, in largo, scusate, 11 settembre. Poi si continua, invece, alle 9 con un altro presidio in via Carducci per poi arrivare, invece, al grande corteo delle 9.30 in Cairoli, giusto? Che è quello, diciamo, più… Quello ufficiale della mattina. Sì, esatto. Diciamo che sono tutti autorizzati, tutti previsti. Trovate le liste, insomma, su internet. A seconda della vostra disponibilità potete partecipare. Sostanzialmente, cosa si vuole però sottolineare? Il governo, lo Stato, sta agendo in modo punitivo contro la violenza delle donne, sulle donne. Cosa però si vuole sottolineare, appunto, che bisognerebbe, invece, agire, sì, in modo punitivo, ma anche andare a scardinare quello che c'è alla base della violenza verso le donne. Nel senso, puoi punire qualcuno, puoi metterlo in carcere, puoi fargli una diffida, poi escono, poi ritornano. Quindi, giustamente, ci si vuole far sentire, specialmente l'8 marzo, ok, va bene tutti i giorni, ma perché bisogna andare ad agire su questa cosina qua che non tutti vogliono sentire. patriarcato non è un hashtag, non è una moda. Esiste, dicevamo prima, non solo nella testa degli uomini, ma anche nelle donne. Nella testa di molte donne succubi. Questo si vuole fare anche in corteo. Non è che si cammina e basta. Sono forti le masse di persone, ok? Quindi sono importanti. Le persone hanno il diritto di scendere in piazza per qualsiasi motivo. È un diritto del cittadino, ok? Senza rischiare nulla, in teoria. Ogni riferimento a Pisa è completamente casuale. L'hai detto tu? Che sei il direttore. Poi, 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 poi. Allora, ci sono anche due flash mob, questa mattina, alle ore 11, uno in corso di porta ticinese e uno in Largo Marina d'Italia. Entrambi, appunto, per contrastare la violenza sulle donne. Così mi dice, in realtà, sto leggendo da infomobilità, vabbè, però è importante trovare le notizie. Magari qualcosa cambia anche durante la giornata, può essere. Però questi, diciamo, sono i punti principali da seguire. Le piazze principali, gli avvenimenti principali riguardo alla giornata internazionale della donna. Era stata fatta anche una manifestazione importante il 25 novembre, proprio perché non è che si aspetta solo l'8 marzo. E se volete un pochino curiosare sul Google, come dicono gli anziani, googolare, come dicono i giovani, la festa internazionale della donna in realtà non sarebbe l'8 marzo. Lo è diventata qualche decennio fa, però c'è tutta una storia dietro che magari è interessante anche capire il perché e il per come. Ce n'è a tutti gli orari, dicevo. Anche al pomeriggio 14.30, invece, in Piazza Fontana, si inaugura una panchina rossa come simbolo di rifiuto appunto alla violenza. Sì, speriamo non venga vandalizzata. Io sono in quartiere Rubattino Lambrate a Milano e hanno più volte vandalizzato delle panchine dedicate e alle donne, quindi scarpette rosse, dipinte appunto di rosso queste panchine, e anche dedicate alla pace. Per fortuna sono state prontamente ripristinate e aggiustate. A volte sembra che ci siano persone che remino contro loro stesse, perché sono iniziative che non servono, ad esempio, in questo caso solo alle donne, servono a tutti. E a proposito, Fabio, non so se hai sentito, dopo il tristissimo e gravissimo evento della morte di Giulia Cecchettin, si sono creati dei gruppi ufficiali di uomini che vogliono parlare di patriarcato, di uomini che vogliono capire che cosa succede quando magari spontaneamente fanno catcalling, di uomini che vogliono correggere come parlano, perché finora magari in 40, 50, 60, 30 anni di vita non ci hanno mai pensato. Quindi anche gli uomini fanno parte della rivoluzione, ok? Sì, devo dire che dopo quello che è successo appunto a Giulia Cecchettin, noi uomini ci siamo, noi maschietti in questo caso dico, perché a volte uomini è un po' troppo anche. Sono d'accordo. Ci siamo fatti tante, tante domande. E sono contento che alcuni appunto chiedano di essere, non dico, in un certo senso educati, in un certo senso di capire, guidati, perfetto. Fammi notare, per me era un complimento fischiarti per strada, solo adesso ho capito che ti metto a disagio, che ti faccio magari cambiare vestito il giorno dopo, che ti faccio cambiare strada. Perché è vero che non tutti gli uomini sono uguali, assolutamente. Non è che si voglia colpevolizzare tutta la categoria maschile, però bisogna pensarci un attimino. Anche tante donne sono contro le donne, attenzione, non è una colpevolizzazione solo dell'uomo. Anche molte donne sono pregne loro stesse di patriarcato e vanno contro le altre donne, con frasi del tipo, se l'è cercata, se fosse rimasta a casa, eccetera, eccetera, Fabio, cose che conosciamo. Ci sono anche altri appuntamenti, ve li diciamo fra poco, perché la sentiamo ancora un po' di musica, non prima di leggere un whatsapp che è arrivato, che dice un saluto particolare alla briosa conduttrice che ti accompagna in onda questa mattina. Chi è? Ah, io? Sì, sì, eri tu. Eri tu, eri tu. E non ho visto che ti scrivi il whatsapp da sole. È mia mamma. Quindi, appunto, no, no, non credo. No, no, grazie. Ho visto appunto che non lo sei scritta da sola. Quindi i nostri ascoltatori tutti molto attenti anche a chi viene qui tutte le mattine, a Good Morning Milano. E quindi andiamo avanti con la musica, un'altra donna, lei è Emma Louise. Chi è? Ma la sentite? Emma Louise, my head is a jungle. Come è la tua head? It's a jungle. Sì, è proprio così, specialmente stamattina, insomma. È un po' il mio ballo delle debutanti, questa mattina, alla mia età. Dai, su. E allora, anche Arion, anche gli auguri a tutte le donne. Grazie. Da Nello che ci scrive appunto al 33178535555. Ma andiamo avanti perché ci sono altri appuntamenti che prima di chiudere vogliamo darvi, perché sono tanti appunto oggi. Ad esempio alle 15 e 30, segue il giardino in via Broletto, quello che tutti chiamiamo il giardino di Armani, perché c'è sopra. Ecco, finalmente vede intitolato qualcuno il suo nome. Sì. A Carla Lanzi. Ok. Sì, Carla Lanzi, scusa, che è stato un'attivista appunto, grande attivista storica per i diritti delle donne e quindi proprio nella giornata di oggi, l'assessorato alla cultura farà le 15 e 30 appunto questa manifestazione, svelano la targa e quindi danno finalmente un nome a questo giardino. E poi si arriva alle 18 e 30. Sì. Grande corteo da Piazza Duca d'Aosta fino a Piazza Fontana, che è proprio quello diciamo che tutti si aspettano. Esatto, quello principale. Ma tu sei d'accordo con la mimosa in generale? La regali, non la regali? Allora, io l'ho sempre regalata. Poi adesso mi sono messo in casa una che si incazza se gli regalano la mimosa. Niente allora. Niente. Però dicevamo che l'8 marzo, adesso non me ne vogliano gli amici che vanno in oratorio a messa così, ma è come, Gesù non è nato il 25 aprile, abbiamo deciso di trattare quella roba lì. E anche l'8 marzo non è proprio il giorno giusto dovrebbe essere. Hai ragionissima, infatti l'hai fatta grossa, ma tu sei il direttore quindi ti prendi le tue responsabilità. Si dice che ci fosse stato un incendio l'8 marzo 1908, non è così, non è mai esistito pare. Invece purtroppo ci fu un incendio il 25 marzo del 1911 nella ditta new yorkese Triangle dove morirono purtroppo 23 operaie, 123 operaie. Si pensa appunto che provenga da lì l'origine del giorno della festa delle donne che però era il 25 marzo, dipende dai paesi perché è stata istituita ufficialmente nel 1911 ed era il 18 marzo, dopodiché però gli Stati Uniti facevano una cosa, l'Europa ne faceva un'altra, quindi prendiamo per buono l'8 marzo perché è la giornata internazionale. Però se si va appunto all'origine troviamo più date e soprattutto più cause per questa istituzione. Vero è però che dopo questo incendio alla Triangle si moltiplicarono e si rafforzarono i movimenti per l'emancipazione e l'indipendenza della donna. Quindi se da questo incendio non si stabilì proprio la giornata esatta sicuramente si vide un incremento appunto dei cortei, delle attiviste e delle azioni. Siamo usando la coscienza femminista, qualcosa ci sta, lo possiamo usarlo in maniera buona. Ti ricordi le suffragette? Sì, sì, Mary Poppins, l'attrice è morta da poco fra l'altro. Stavo pensando proprio a quella scena lì. Sì, la signora di alta borghesia vestita tutta elegante di bianco che andava a manifestare. La nostra generazione ha saputo cos'erano le suffragette solo grazie a Mary Poppins. Ho detto suffragette, l'avresti mai... No, 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 però effettivamente è così. Se non c'era Mary Poppins non avremmo mai scoperto quella pagina di storia. Purtroppo no. Quindi vi vedi a cosa serve Walt Disney. Cosa serviamo noi anche comunque. A proposito di Walt Disney, grandi rivoluzioni sui personaggi, alcuni dei personaggi femminili. Tu mi insegni, insomma Biancaneve è diventata mulatta, non si possono più usare certe parole all'interno dei doppiaggi, vanno sostituite, la Mary Poppins stessa è stata dichiarata non guardabile dai minori di 14 anni se non accompagnati. Sì, quindi adesso sto un po' aprendo il discorso, però per dire comunque la figura femminile della Walt Disney è sempre stata quella della donna succube che poi viene salvata ed elevata dal maschio. E invece adesso si stanno proponendo delle nuove situazioni, ma i conservatori dicono state esagerando. Tu cosa ne pensi? Allora, io non sarò mai conservatore, però credo che forse si stia un po' esagerando, ma credo più che altro che si stia esagerando nell'importare certe battaglie qui da noi, dove culturalmente non siamo legati a certe cose. Quindi dico sempre, ad esempio, il tema del razzismo è un tema complicatissimo, perché negli Stati Uniti, molto probabilmente, la mia mamma avrebbe nella sua vita conosciuto uno schiavo, molto probabilmente, o un talziano, ma sarebbe riuscito a conoscerlo. Quindi capite che è una cosa veramente molto legata alla loro cultura. Noi qui abbiamo tantissimo razzismo, anche noi, ma è legato a tutt'altri movimenti culturali e cose diverse. A me dispiace un po', ma anche la battaglia sui pronomi che viene fatta negli Stati Uniti, è una battaglia sacrosanta che però vedo difficilmente trasportabile da noi. Ci arriveremo dopo, come al solito, magari. Sì, ci arriveremo dopo, ma forse dovremmo fare certi tipi di battaglie più legate appunto alla nostra cultura. Quell'esempio col patriarcato è una battaglia che va invece e come no. Mi piace però quando vedo le bambine di colore, le bambine nere, in alcuni video che girano su Instagram e TikTok, vedere le loro principesse preferite o le loro bambole preferite con la pelle del loro colore. Sono molto contente, fino alle lacrime di gioia. Beh, sì, sì, sicuramente. Ma infatti, come dicevo, appunto, sono battaglie che dobbiamo cercare di portarci tutti insieme in giro. Senti, io devo salutarti. No, ci salutiamo. Ci salutiamo, attenzione, attenzione. Ok, sicuro, ci salutiamo. Sì. È successo di tutto. No, ci salutiamo, ci salutiamo. Grazie, grazie. Buon venerdì. Io ti ringrazio davvero. Spero di risentirti presto. Ci risentiremo sempre di venerdì. Sempre qui sui nostri canali, come se in questo caso. Assolutamente. E grazie. Buona festa. Sì, grazie mille, grazie della compagnia e buona festa anche a te. Ciao. Ciao, grazie. Noi torniamo fa pochissimo, eh. Piccola pausa, giornale radio e poi siamo di nuovo qui. Ovviamente un'altra donna, lei è Anna. Morandi, Ruggeri, Tozzi, si può dare di più. Venerdì 8 marzo, questo è il Crystal History delle ore 8. Bentornati a Good Morning Milano. E per questo venerdì 8 marzo abbiamo qui in studio con noi la nostra bravissima, spumeggiante, bionda che conta, che oggi invece non conta. No, oggi. Oggi non fai contare niente. Buongiorno a Viola. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti. E a tutte. E a tutte, soprattutto a tutte. Oggi soprattutto, non cominciamo a sbagliare sulle basi. E allora, 8 marzo abbiamo avuto Silvia Gatti, io e Silvia siamo quasi della stessa generazione, quindi abbiamo un'idea di 8 marzo. Com'è l'idea dell'8 marzo di una nata nel 2003? Tu sei nata nel 2003. Sì. Pensate, nascevano le 2003 persone che sanno parlare in questo momento. Sono già così grandi da poter... Ma secondo me l'8 marzo comunque rimane importante da ricordare e festeggiare. Forse non ha l'importanza che aveva una volta, ma sicuramente è importante per fare tutte quelle iniziative di cui parlavate anche prima, quindi i cortei, i smob... Ma questo è un tuo pensiero o ti sei con le tue amiche? No, è il mio pensiero. Ah, ok. No, è il mio pensiero personale. Quindi chiunque possa venire qua, prendermi il microfono e dire quel cazzo che vuole. No, no, è letteralmente il mio pensiero personale. Secondo me è molto più impegnato. Non ti sei confrontata con le tue compagne, le tue amiche? No, sì, è capitato. Allora oggi ancora no. Ieri, gli allenamenti, ieri. Non avete parlato? No, non abbiamo parlato. Però secondo me, in generale, io sento questa cosa che è molto più impegnato rispetto agli anni passati. Cioè c'è un impegno... Sì, aumenta sempre di più. Siccome poi la situazione è peggiore di anno in anno, secondo me l'8 marzo l'impegno che si vede è sempre maggiore. Mi sembra, quindi, meno festa della donna, più giornata d'impegno. Esattamente, esattamente questo. Meno festeggiamenti della donna, è molto più giornata. Quindi non si va stasera fuori con le amiche a bere qualcosa di... No? No, vabbè, si può anche fare. In realtà, si può anche fare, ma non è il punto principale dell'8 marzo. Si può anche fare perché comunque l'8 marzo è carino uscire con le amiche. Così, carino. Se ti regalano la mimosa, sei contenta o nota? A me fa piacere, in realtà. Sì, non puzza? Sì, non è dei migliori, non è tra i miei preferiti, però a me fa piacere ricevere il fiore. Ok, bene, bene, bene. Ma so che ricevi anche spesso, volentieri, dei whatsapp, dei messaggi nominatori, ma anzi, di realtà buon auspicio. Sì, ne stavamo parlando prima, ma tra l'altro mi è arrivata adesso una bellissima foto di Rita Levi-Mottalcini, dalla compagna di mio padre. Classica gif, un po' da... Da boomer, diciamolo. È il momento, messaggio dal boomer. Esatto, vabbè, questa è anche carina. Adesso non so, te la faccio vedere. Siamo in radio, quindi farla vedere. Comunque c'è proprio il viso di Rita Levi-Mottalcini. Gigante, è una bella frase. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Hai visto? Vabbè, solo questo. Ma è vero, pensa, tu sei così intelligente che infatti sei in radio, la gente deve immaginarti. È vero, è vero. Quindi puoi tranquillamente non mostrare nulla. In realtà non è vero, perché se volete su Milano il News e su anche goodmorning.milano.it potete poi rivedere il podcast, il video podcast della nostra trasmissione, quindi anche conoscere proprio vis-à-vis la nostra bionda che conta. A proposito di bionda che conta, stai preparando? Sì, sì, l'ho già preparata. Possiamo dare una notizia? Possiamo dare uno spoiler? No, possiamo dare una notizia che cosa succede settimana prossima? Purtroppo sarà la mia ultima settimana qua, goodmorning Milano. Ti ha chiamato Fabio Volo? Mi ha chiamato Fabio Volo, per questo. Ecco, lo sapevo io. Il primo giorno ho detto questa cosa di Fabio Volo, che avrebbe rubato la nostra viola, vedi, è successo. Tra l'altro mi ha scritto adesso in diretta Monica, che è la compagna di mio padre personale indietro, e mi scrive, e io sono giovane, non sono una boomer. Ecco, rivendica, rivendica tutto. Apnea, Emma, e siamo qui ancora con Violo. Oggi Violo ti tengo qui un po' di più in studio. Volentieri, certo. Visto che non hai niente da contare, ti leggo un po' di notizie e vediamo un po' cosa mi dici tu. Vai, vai, vai. Allora, case di lusso a Milano. Quindi parliamo di casa tua. Sì, certamente, proprio io. La richiesta di appartamenti continua a crescere, vedi, perché sei tu che la stai cercando, ma sono pochi. Quindi ci sono poche case di lusso a Milano. Ma va? E soprattutto i prezzi non scendono. Eh, vabbè. Che notizia è? Non ho capito bene lo scoop qua. Devo dire la verità, quando l'ho letta la prima volta mi sembra la più sensata. Rileggo. Case di lusso a Milano. La richiesta di appartamenti continua a crescere, ma sono pochi e i prezzi non scendono. Ah, ok. Ah, quindi dice c'è sempre più richiesta, ma troppe poche case. Sì, nonostante non scendano i prezzi. Esatto. Cioè, quindi le case costano sempre tanto, la richiesta è comunque altissima e, pensa a te, non ci sono neanche case per tutta questa gente che può permettersi queste case. Sì. E qui c'è la domanda di quella, ma chi è questa gente? Chi fa richiesta, dici? Pensa, pensa, pensa. Domanda e offerta, però, fanno fatica ad incontrarsi. Un fenomeno che interessa tutto il mercato cittadino, ma che nel caso del lusso potrebbe avere conseguenze più serie, quindi è ancora più difficile trovare case di lusso piuttosto che casacce dove andiamo noi, perché, per chi, scusate, per chi è disposto a firmare assegni a sette cifre. Madonna. Dopodiché ancora c'è gente che firma ancora gli assegni. Eh, è la domanda, è vero. Comunque, vabbè, eh, niente, quindi se tu, tu non sei, tu hai compagnie di corso fuori sede, o cose che si lamentano tutto il giorno, com'è, com'è, com'è? Allora, devo dire che... Cioè, la tua cricca di gente ricca, come funziona? Non lo saprei, però. Devo dire che in realtà le mie compagnie di corso fuori sede sono state abbastanza fortunate, perché tra amicizie di genitori, parenti, eh, bene o male si sono più o meno arrangiate e trovate bene. Quindi non ho particolari lamentere. Però ecco, la notizia che hai dato è quella, cioè l'hanno fatto grazie ad amicizie. Sì, quello è l'unico modo, l'unico modo per fortuna, per conoscenze, perché sennò è difficilissimo. Però devo dire che loro in realtà si trovano bene. Ad esempio, questa mia compagna di corso, avete in zona Naviglio, una zona... Ah, bello. Sì, monolocale piccolissimo, però essendo che... Quanto spende possiamo dirlo? Non diciamo il nome, ma diciamo quanto spende. 400 euro. Ma niente. Niente. Ma per Milano niente. È comunque davvero piccola come casa. Non diciamo il nome e non neanche dove, perché li occupano casa, quindi non diciamo. Infatti, no, 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 non lo diciamo. Ciao Silvia. No, non lo so, non lo so come si chiama. C'ho beccato? No, non è libero, c'è una compagna fuoricorso che si chiama Silvia, che abita fuorisede a Sesto. Fuorisede, non fuoricorso, che adesso in questo momento i parenti di Silvia hanno detto come fuoricorso? No, 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 fuorisede, fuorisede, fuorisede. A Sesto, infatti a Sesto lei si trova bene perché i prezzi sono... Ok. Ma studia lingue via Sesto oppure no? Viene a Milano invece? Sì, sì, viene a Milano. Viene a Milano con me. Con te? Sì, in Festa del Perdono. Ok, quindi se volete andare in Festa del Perdono e volare Viola, Silvia, ogni tanto... Magari ci trovate lì. Non è vero, non ti ho mai visto l'università. Da quanti mesi è che non metti piede? Da quando sono qua con te che non metto piede in università. Perfetto, va bene. Ci tornerai la settimana prossima? Sì, non settimana prossima, anche l'ultima, quella dopo devo. Quella dopo devi. Devo recuperare. Non so, diciamo che metti un ombrello Viola, portati un ombrello Viola così se volete andare in Festa del Perdono e c'è una ragazza con un ombrello Viola, anche se c'è il sole, è Viola. Vero, se no mi potete trovare in Vianotto, sono una delle dieci persone che è rimasta che va in Vianotto spesso, lì sicuramente mi troverete perché sono una di quelle poche sfigate che devono andare ancora lì. Questa cosa di Vianotto veramente è la spalla di Damocle su tutti gli universitari e so essere una cosa che va avanti da anni e continuerà a esserci ancora per anni nonostante il ridimensionamento e il rilocamento delle varie facoltà della statale. Gailey, IBC, DUF, comunque solo donne quest'oggi, adesso dopo poco andiamo in pausa, andremo in pausa con Rose Villain che so che tu avevi un aneddoto da dirci che appunto i giornali abbiamo letto in questi giorni. Sì, sì, l'ho letto anche io in questi giorni che praticamente Rose Villain, a quanto pare, non lo sapevo ma è appassionata di moto, aveva questa moto che aveva perso, gliel'avevano rubata insomma, e a distanza di, non mi ricordo quanto, un mese credo, un fan gliel'ha ritrovata sui navigli e niente, quindi adesso Rose Villain ha ritrovato la moto grazie a questo fan e gli ha promesso entrata gratis, non lo so quello, ma sicuramente entrata gratis ai concerti a vita, questo è quello che dice lei, poi effettivamente non lo so. Poi ti daranno un passavita, è interessante, pensa che prima hai avuto un lapso, l'aveva persa, non l'aveva, ecco, e pensa che invece, leggo dal Corriere della Sera Milano, denuncia il furto dell'auto, dopo oltre un mese scopre che l'aveva parcheggiata nel garage del vicino. Del vicino, sì, ho letto pure anche io stamattina. E questo qui, questo qui, questo batte tutti, questo batte tutti, questo batte tutti. Non posso dire il nome perché non so se è arrivato in prescrizione, ma un mio caro amico anni fa denunciò il furto dell'auto che non trovò più, non trovò più, non trovò più, quindi fu pagata dalla sicurezza. L'auto nuova, comparto la settimana prima, la ritrovò dopo sei mesi, lui, andando in una via in cui non aveva mai parcheggiato, secondo lui, invece l'aveva parcheggiato lì. Non disse niente a nessuno, lasciò la macchina lì e se ne andò. No, però sei mesi dopo la ritrovò, ogni tanto succede, però insomma complimenti ai fan dei Ross Villain che sono movimentati, mobilitati, non mobilitati per trovare la sua moto e quindi non fa click boom, fa brum brum la sua moto, ma andiamo ad ascoltare il click boom con Ross Villain e poi piccola pausa e troviamo qui dopo la pubblicità. Dua Lipa Dance the Night e si va avanti anche questa mattina con i giornali e lo sapete da Milano è la città dei render, l'ho detto spesso, no, the city of render e oggi non è da meno perché leggiamo dal Corriere della Sera a Milano, City Life a Milano, The Wave, The Wave l'onda, sarà il quarto palazzo pronto nel 2026, si punta su verde e sicurezza, se non ci mettono il verde di mezzo non sono contenti, eventi e più telecamere, così a caso, la struttura unirà due edifici di 10 e 20 piani, sarà retta da cavi d'acciaio ricoperti in legno lamellare su cui saranno posti 12.000 metri di pannelli fotovoltaici, non ho idea minimamente, tra parentesi scusa, ha scritto 12.000 metri quadrati credo, perché 12.000 metri lineari sono 12 chilometri, non credo che sia lungo 12 chilometri, comunque non ho idea di quanto sia 12.000 metri quadrati di pannelli solari, anche qua, ma fate un esempio, scritte, come fosse, no, circa due campi da calcio, circa, niente, non si capisce niente, comunque, verde, verde, giochi per bambini, oneri di urbanizzazione, è bello che lo mettono come se fosse una cosa, oneri di urbanizzazione come se fosse una cosa che non, e c'è sempre, gli oneri di urbanizzazione sono sempre, cioè quando tu costruisci una roba, anche se volete costruire il portone di casa vostra, dovete dare gli oneri di urbanizzazione, ovviamente saranno tanti, ma comunque, ma soprattutto sicurezza all'interno del parco, visto che in un anno sono circa 11 milioni i visitatori dell'area, 11 milioni, anche lì quanto sono 11 milioni? Non lo si sa, non si capisce, un miliardo e mezzo, no, non si può sapere, comunque vabbè, 11 milioni i visitatori dell'area, si procederà quindi con l'installazione di 86 telecamere e la posa di 10 colonnine SOS, va bene, fino adesso l'unica roba che vediamo è un grande cantiere e un grande render, comunque, come sempre, tante, tante belle notizie su quanto stiamo a cementificare questa città, poi, ovviamente, nel titolo ci devi scrivere che c'è anche un po' di verde, perché se no, come fai, come fai a non, a non, a far passare per l'opinione pubblica un progetto del genere, perché se ci pensate, la City Life, che è un bellissimo progetto che ha riqualificato, una zona che andava riqualificata, c'è un bellissimo parco, benissimo, ma non mi sembra che non abbia abbastanza cemento, cioè si chiama Tre Torri perché c'è tre gattaceni, ma non sono gli unici tre che ci sono, ci sono tante altre strutture, bene, dal 2026 ne arriva anche un'altra, The Wave, sulla carta c'era scritto, quindi non è che si stanno inventando niente, non si può fare nulla, cioè, quell'area lì è area di costruzione, però, ripeto, servono? Evidentemente sì, vista la notizia di prima, dove dicevamo che gli appartamenti di lusso hanno grandissima richiesta e pochissima offerta, ma è questa la città che vogliamo, davvero vogliamo continuare in questa direzione, chi stiamo lasciando indietro? Questa è la domanda che dovrebbero porsi tutti quanti coloro che sono gli attori in palcoscenico, diciamo, in questo momento, nella grande rivalutazione, rigenerazione, costruzione e soprattutto nella costruzione del futuro di questa città. Chi stiamo lasciando indietro? Chi non riesce a stare al passo con questa velocità e con questa città che davvero sempre di più va in un vortice, di cui, signori, il rischio è quello di non toccare mai più il fondo e quindi non poter neanche mai più risalire? Analisa sinceramente e continuiamo invece con le notizie che leggiamo da Repubblica Milano perché è stata polemica tanto, tanto sui giornali, sono uscite tante notizie, quando all'epoca si è dato l'utilizzo, la dotazione, scusate, del Taser, o Taser, Taser, credo si dica Taser, sei Taser, ai carabinieri. Ecco, dopo due anni di sperimentazione, diciamo, arrivano i primi report e sono interessanti perché cosa dicono i carabinieri? Il Taser fondamentalmente è fatto per non usarlo. Questo dicono. È stato impiegato solo 27 volte in due anni sul nostro territorio. E sì, perché pensate, l'esperienza di Milano, in più di un caso su tre non è stato necessario impiegarlo per immobilizzare il soggetto colpito. Cioè cosa significa? Che basta solo averlo e tirarlo fuori e già la situazione si va a sistemare. Devo dire che io, che non ero per niente favorevole all'utilizzo di questa metodologia, di questo strumento, devo dire che è un dato interessante invece, perché se è così deterrente anche solo utilizzo, anche solo il mostrarlo, devo dire che insomma è abbastanza interessante. Sicuramente è meno pericoloso del sfoderare una pistola, quindi sicuramente è, e interessante il fatto che comunque venga anche dato in dotazione ai carabinieri dopo però essere stati addestrati, perché sì, sono già 618 i carabinieri che sono stati addestratti e altri 338 sono in formazione in queste settimane e dentro luglio un migliaio di militari milanesi che fanno controllo del territorio e sono quindi sulla strada, sarà quindi dotato della pistola elettrica. Sono in realtà soprattutto i nuclei di radiomobile e quelli che fanno anche pattugliamenti intorno alle stazioni. Sono 5 giorni di addestramento. Da un lato viene spiegato il quadro normativo che appunto legittima più o meno, cioè legittima o no, l'impiego del taser, dall'altra le manovre poi per usarlo, che vale sia per chi spara sia per l'altro collega che poi deve intervenire subito dopo verso la persona colpita. Ovviamente oltre anche a un addestramento e quindi a un corso di formazione sulla componente sanitaria e sui rischi possibili che ci possono essere perché vogliamo che insomma non tutti possono essere vittima del taser senza ripertare danni. Cioè ci sono la possibilità di danni, danni cardiaci soprattutto. La cosa interessante però è che appunto il dato, il dato interessante qual è? Che da marzo 2022 alla fine del 2023 nel milanese si è ricorsi al suo uso 42 volte. Ma pensate che in 15 interventi ci si è fermati ben prima di sparare e in quattro casi è stata sufficiente semplicemente la mera estrazione del taser. In 11 casi l'attivazione del cosiddetto arco voltaico che produce anche una scarica sonora di avvertimento appunto non è stata poi dovuta, cioè non si è utilizzato poi anche in questi altri 11 casi, semplicemente fatto sentire il suono e già è bastato quello per immobilizzare o comunque per far tornare alla normalità una situazione che era di grande pericolo in quel momento. Quindi devo dire, interessante, su Repubblica Milano c'è tutto l'articolo con tanti dati, io fossi in voi una lettura gliela darei così perché è interessante, io ti ripeto, vi ripeto, ero completamente contrario a questa norma e non è che adesso sia molto favorevole, però devo dire che fa ragionare e fa pensare su come possano essere utilizzati certi strumenti per il problema della sicurezza che sappiamo essere importantissimo sul nostro territorio. Rosaline con Alleluia. Allora ho un compito da portare avanti, la nostra produzione Viola mi ha detto che devo fare un appello per Monica, che è con lei che gli ha mandato il Whatsapp prima, che abbiamo letto in diretta, che abbiamo un po', diciamo, in presso del termine, abbiamo un po' perculato, ma non era, anzi, Viola è ben contenta di aver ricevuto il messaggio, cioè pensate mi sta suggerendo cosa dire, io sto passando, e fa anche gli auguri, ricambia gli auguri a Monica, abbiamo detto si chiama, giusto Monica, ok va bene, quindi Monica grazie per il messaggio, anzi, anche le altre ragazze della redazione contraccambiano gli auguri, anzi, gli auguri ancora a tutte le donne, appunto, questo 8 marzo alle 8 e 48. A proposito di 8 marzo, a proposito di donne, torna nelle sale il film C'è ancora domani, di Paola Cortellesi, ebbene sì, torna al cinema proprio per l'8 marzo, ben 220 sale in tutta Italia, e lunedì 11 marzo, in città come Torino, Milano, Firenze e Napoli, verrà anche proiettato la mattina per delle scuole, quindi più di 600 ragazze e ragazzi potranno vedere il film. Questa sera, invece, appunto, è in proiezione, anzi quest'oggi, nelle maggiori sale italiane, quindi potete comunque andarlo a vedere. Un film che, pensate, è uscito il 26 ottobre del 2023, 5.363.095, vorrei conoscere quei 5 lì, biglietti venduti, un incasso totale di quasi 37 milioni di euro, ed è stato quindi il film più visto e col maggior incasso dell'anno 2023 e della stagione 2023-2024. È il nono film col maggior incasso in Italia, nella storia, e il quinto tra i film di produzione nazionale. Insomma, la prima opera di Paolo Cortellesi è stata, proprio come si dice in questi casi, buona, la prima. Lo potete rivedere, lo potete vedere o rivedere, se per caso l'avete già visto a ottobre quando è uscito, oggi, 8 marzo, appunto, in più di 200 sale in Italia, a 220, più di 220 sale cinematografiche in Italia. Quindi buona visione a tutti. Big Mama, la rabbia non ti basta. Eh sì, in questa giornata in cui abbiamo ascoltato solo musica femminile per l'8 marzo, voglio ancora fare gli auguri a tutte le donne in ascolto e anche ricordare, appunto, come abbiamo detto con anche le nostre ospite, Silvia Gatti, nella prima parte, ma poi Viola, che sta qui con noi nella seconda parte, come è importante che non solo l'8 marzo si ricordi quanto sia importante e sbagliato, anche dall'altra parte, invece, la violenza che c'è verso le donne e sia importante combattere tutti i giorni per questo. Ma non è solo quello questa giornata, è una giornata in cui, soprattutto, lo dicono i maschietti, forse sarebbe ora di metterci in ascolto e quindi ascoltare e non parlare. E questo è importante. Fa un po' sorridere che lo dica uno che è due ore che parla da un microfono. E quello però è MMST, mi dicono che devo farlo tutte le mattine e spero di farlo nella migliore delle maniere, soprattutto di farlo anche con tanta, tanta compagnia da parte vostra. Infatti, grazie ancora a chi ci ha scritto questa mattina tutti gli auguri che sono arrivati e che girerò alla redazione al 3317853555. Grazie ancora. Adesso andiamo la sigla e poi ci salutiamo. Sigla! 8 e 54 minuti, benvenuti alla fine di questa trasmissione. Eh sì, è un benvenuto perché dopo di noi comunque c'è tanto tanto altro. Benvenuti a Ritardatari anche. Il venerdì so che molti sono a casa a fare smart working, quindi ci ascoltano un po' più tardi, quindi salutiamo anche loro, ma vi voglio ricordare che dopo di noi c'è Ambrogio Curti, quindi non finisce la mattinata su Cristian Radio, anzi, siamo solo all'inizio. Dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti. E oggi è venerdì, thanks god, it's Friday, arriva quindi il weekend. Inizia il weekend, godetevi la tregua della pioggia che c'è oggi perché da domani ritorna e quindi mi raccomando fate oggi quello che non potete fare domani. Questo potrebbe essere il motto della giornata di oggi, venerdì 8 marzo. Buon weekend a tutti, noi ci ritroviamo, ci riascoltiamo e ci rivediamo lunedì qui in diretta su Cristian Radio Milano News con Good One in Milano dalle 7 alle 9, come sempre per leggere, raccontare e farvi scoprire tutto quello che c'è da scoprire sulla grande città di Milano. Buon weekend a tutti, ciao ciao!